Grazie a tutti. Di Paola la scrittura di questo libro mi ha permesso di conoscere più da vicino la realtà calabrese e in particolare le sue infinite potenzialità. Francesco, per dire una delle sue tante caratteristiche, era un uomo che curava tantissime persone con le erbe, le erbe di questa terra. In realtà la maggior parte dei miracoli non erano miracoli, non erano prodigi, ma erano dovuti alla sua profonda conoscenza delle erbe. Venire qua e un po' riscoprire l'aspetto di una Calabria che per me era sconosciuta e forse per tanta gente sconosciuta, una terra ricca di risorse, di grandissime potenzialità e che ha fatto non a caso crescere una delle figure più importanti della storia della Chiesa. Grazie. 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 Grazie.